Eccoci qui col 3-point game dalla Segafred Arena. La Virtus batte 80-75 il Barcellona e vittoria di spessore perché dopo un primo tempo pessimo come quello di oggi, finito 33-45 per gli ospiti, dove erano riusciti a fare qualsiasi cosa, specialmente con dei semplici pick and roll, riuscivano ad arrivare a canestro senza aiuti da parte dei difensori delle Vunere. Nel secondo tempo però i Virtusini sono entrati in campo con un piglio diverso, con la voglia di vincere e di svoltare la partita. Infatti il secondo tempo è finito 47-30 per i padroni di casa. Questo dimostra anche la grande difesa che è stata messa in atto dai giocatori della Virtus e di coach Banchi. Il primo punto di oggi lo dedichiamo alla resilienza di squadra, anche se già menzionata in altri 3-point game, ma si è dimostrata ancora oggi veritiera, perché dopo un primo quarto come quello di oggi si pensava che avrebbero mollato, almeno l'anno scorso probabilmente sarebbe successo così con Scariolo. Oggi sono entrati nel secondo quarto con un atteggiamento diverso, spinti da un super Lumberg e anche Hackett. Ha partecipato anche Bruno Mascolo, grande menzione d'onore per lui, perché nei 5 minuti che è stato in campo ha aiutato a svoltare la partita, sia in difesa che con due punti. Anche Toko Schenghelia non ha giocato la sua miglior partita, ma alla fine ha portato a casa un bel bottino con 14 punti e tanti rimbalzi, qualche assist anche molto bello. Il secondo punto lo dedicherei invece a Lumberg, perché ancora oggi si è dimostrato un componente fondamentale per la squadra. Oggi ha realizzato 21 punti, di cui 13 solo nell'ultimo quarto. Con anche la tripla del più 4 su Veselie allo scadere dei 24, che ha chiuso la partita. E quindi ha dimostrato che lui in questa squadra ci può stare. È innegabile quanto sia importante per la squadra. E l'ha dimostrato anche in altre occasioni, non solo oggi. Il terzo punto invece lo dedico alla poca cinicità del Barcellona, perché oggi questa partita era da chiudere. Dopo un ottimo primo tempo come quello di oggi, doveva entrare in campo nel secondo tempo per dargliene 30. Cosa che ci aspettavamo tutti sugli spalti. Invece sono stati sopraffatti dalla difesa e dalla forza di volontà, dall'energia messa in campo dai giocatori di coach Banchi. Che hanno chiuso la partita, meritatamente hanno vinto. E quindi per oggi è tutto dalla Sega Fredd Arena.